Ciao a tutti, domanda numero uno. Chi è Marta Giaccone? Sono una fotografa di Milano di quasi 32 anni. I miei lavori solitamente indagano storie relative a adolescenti o a donne. Domanda numero due. Cos'è la fotografia per te? Non sono mai stata molto brava con le parole, quindi uso la fotografia per raccontare storie che in qualche modo mi stanno a cuore e che seguo con interesse e passione. Quale lavoro è presente e perché? Allora, vorrei presentare un lavoro che ho iniziato nel 2015, si chiama Ritorno all'isola di Arturo. È svolto a Procida, un'isola nel golfo di Napoli, molto piccola, di circa 4 km2, vicina a Ischia e più o meno vicina a Capri. Procida è molto più modesta, diciamo, silenziosa, tranquilla, nel senso che non è così tanto conosciuta. Il progetto è nato dopo che ho letto L'isola di Arturo, di Elsa Morante, scritto nel 57, che racconta in prima persona, cioè dal punto di vista di Arturo, un ragazzo di 14 anni che negli anni 30 vive sull'isola, vive una vita, un'adolescenza un po', diciamo, idilliaca. E questo mi ha fatto pensare, siccome già le tematiche degli adolescenti mi interessavano, mi sono chiesta chissà come deve essere per un adolescente degli anni nostri, vivere in un posto così piccolo, così bello. Se scrivi su Google Procida ti vengono fuori foto, cartoline. Quindi in un'età in cui magari i ragazzi vogliono un po' ribellarsi, hanno bisogno di spazio, vogliono... hanno bisogno di conoscere, di uscire dai propri... dal proprio... dalla propria cittadina. Ho pensato che potesse essere interessante. Quindi sono andata e ho avuto la fortuna di conoscere subito un gruppo di ragazzi. All'epoca avevano 13 anni. Nel corso degli anni sono sempre tornata, anche più volte ogni anno. Ho conosciuto sempre più amici, quindi questo gruppone si va allargando. e mi piace molto passare tempo con loro e, diciamo, fotografarli, ma soprattutto esserci amici mi fanno scoprire loro l'isola, la loro isola. Quarta domanda, un invito a chi ti guarda. Invito chi guarderà le mie foto a prenderlo un po' come una storia universale, nel senso di vita di giovani in una piccola cittadina, perché alla fine Procida è la provincia di Napoli, è come se fosse appunto una cittadina. Quindi un tema un po' universale che poi io ho svolto, ovviamente, a modo mio, in un modo molto specifico. Però credo che chiunque sia cresciuto in un piccolo centro possa magari rispecchiarsi. Grazie.